Ben trovati a questa edizione del Tg10, vogliamo parlarvi di un concorso che da circa 24 anni è promosso dal Movimento per la Vita e che interessa soprattutto gli studenti, infatti è il concorso europeo che ha avuto sempre come filo conduttore il tema della dignità e dei diritti dell'uomo in rapporto all'Unione Europea. Il concorso del 2010-2011 propone quest'anno l'argomento della famiglia, infatti il tema è famiglia fondamento della società in Europa e nel mondo. È un tema che si collega con quello dell'anno scorso che era Europa, meditazione sulla dignità umana, perché se da un lato la dignità umana è il fondamento di tutti i diritti umani, dall'altro è essere rivelata in modo esperienziale della famiglia. L'orizzonte europeo è stato sempre presente non solo perché questo premio porta i vincitori a Strasburgo, ma soprattutto perché esso consente una conoscenza diretta degli obiettivi e del lavoro che accompagnarono la costituzione di quella unità europea che i padri fondatori, De Gasperi, Schumann, De Nauwe, pensarono come baluardo della pace e dei diritti umani. Infatti questa Unione Europea non può essere pensata soltanto come uno spazio economico, il mercato, la concorrenza, la moneta unica. Non è immaginabile un'Europa che sia davvero costruttrice di pace e promotrice dei diritti umani se non sa dare una risposta al senso del vivere. L'attualità del tema sulla famiglia è dimostrata da varie circostanze, in primo luogo purtroppo nelle istituzioni europee si parla molto poco della famiglia ed è smarrita la definizione a causa proprio della perdita di significato della differenza sessuale. Dall'altra parte il tema delle famiglie di fatto e in particolare quelle omosessuali è proposto frequentemente anche in Italia, è di opportuno che i giovani dispongano di tutti gli elementi culturali idonei a costruire un giudizio completo e sereno. Da anni ormai si parla di emergenza educativa, il giovane è colui che si apre alla domanda di senso della propria esistenza. Allora in questa prospettiva la percezione del valore dell'affettività e della famiglia è un elemento importante, ma sulla popolazione giovanile si rovescia ogni giorno una grande quantità di messaggi che possono distruggere una corretta aspirazione verso l'amore e verso la famiglia. Quindi è estremamente urgente inserire il tema della famiglia nella risposta che deve essere data all'emergenza educativa. Per quanto riguarda le regole del concorso dobbiamo precisare che innanzitutto il termine scade il 31 marzo del 2011 e ci sono due sezioni, quella riservata ai ragazzi del liceo, degli ultimi tre anni del liceo e ai ragazzi che frequentano l'università. Per quanto riguarda i ragazzi pre-universitari devono mandare i loro elaborati che possono essere sia dei temi ma anche disegni, ma anche filmati, tutto quello che la creatività giovanile può suggerire la devono mandare presso le sedi regionali. Mentre gli studenti universitari, quelli fino a 25 anni, possono mandare i loro elaborati alla segreteria nazionale del concorso presso il Movimento per la Vita italiano che è a Roma. Naturalmente tutte le maggiori informazioni voi le potete trovare sul sito del Movimento per la Vita, ve lo ricordo www.mpv.org. E passiamo alle notizie. Una clinica degli orrori dove venivano uccisi anche i bimbi partoriti all'ottavo mese. Una clinica lasciata operare per oltre 30 anni nel cuore di Filadelfia senza che le autorità sanitarie cittadine o statali intervenissero. Centinaia di lamentele e 46 denunce formali di violazioni e di regolarità fatte negli ultimi 20 anni non sono però bastate a far chiudere le tre luride stanze dove le parti di feti abortiti venivano conservate in bottiglie dell'acqua minerale prima di essere gradualmente eliminate nei vuoti e nella spazzatura. Serve un cambio di rotta e quello che dice il Presidente nazionale del rinnovamento Salvatore Martinez dopo l'intervento del Cardinal Bagnasco, Presidente della CEI. È tempo di dare al Paese una decisa e comune inversione di rotta sul piano sociale, morale e spirituale. La corsa verso una società neutra, sostenuta da un libero arbitrio individualista e competitivo, ha alterato in modo sensibile la coscienza del nostro popolo. Ogni nazione è una famiglia umana, una famiglia di famiglie, chiamate a condividere ideali comuni, principi e valori alti, indispensabili per segnare una convivenza pacifica di un popolo. L'Italia ha bisogno di conversione e di rinnovamento. Così ha concluso Salvatore Martinez nel suo comunicato. Verità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale. Questo è il tema scelto da Benedetto XVI per la prossima giornata delle comunicazioni sociali, quindi che riguarda anche noi, che in programma il prossimo 5 giugno. Il richiamo ha le opportunità legate al buon uso di Internet. Ai credenti il Papa fa l'invito a unirsi con fiducia e con consapevole e responsabile creatività nella trama di relazioni rese possibile dai nuovi media, perché questa rete è parte integrante della vita umana. Le nuove tecnologie permettono alle persone di incontrarsi oltre i confini dello spazio e delle stesse culture, ma avverte il Papa il contatto virtuale non può e non deve sostituire il contatto umano diretto a tutti i livelli. E ora una notizia che sicuramente ci sorprenderà chi viene dalla Cina. Prima lo hanno sospeso dal suo lavoro all'università dove insegnava legge, poi lo hanno licenziato e non contenti gli hanno inflitto pure una multa salatissima. La sua colpa è quella di non aver rispettato la legge, avendo messo al mondo un secondo figlio. Stanco di sopportare questa persecuzione delle autorità cinesi, il novello padre ha deciso però di rivolgersi al Tribunale, ma con poche speranze di vincere, nonostante però che la legge esorti e non obblighi le coppie cinesi a non avere il secondo figlio. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha votato una risoluzione sulle violenze contro i cristiani nel Mediorente, per chiedere quindi iniziative a difesa delle comunità, nei paesi dove sono minacciate di estinzione o comunque di essere ridotte a una presenza precaria e non solo simbolica. Nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo anche sanzioni contro i paesi che non proteggono le confessioni religiose e che non condannano apertamente tutte le manifestazioni di violenze, intolleranza e discriminazione religiosa. E adesso parliamo di una notizia particolare. I bambini e i ragazzi affetti dalla sindrome di Down, se ricevono l'amore che meritano, possono arrivare a condurre una vita quasi normale, portano allegria in famiglia e ricambiano l'affetto in modo impagabile. Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo, in rapporto alla superficie alare, ma il calabrone non lo sa e continua a volare. Questo straordinario aforisma, uno tra i più belli che ci giungono da Igor Sirkosky, ingegnere aeronautico americano di origine ucraina, è il motore, la spinta, che ha indotto alcuni genitori a credere in modo speciale ai loro figli speciali. Questi genitori hanno potuto constatare che come il calabrone inconsapevole, il solo fatto di credere in loro, di aver fiducia nel loro potenziale, ha fatto sì che i propri bambini affetti da sindrome di Down vivessero in modo che noi potremmo definire praticamente normale. Consapevoli che altre dolcissime creature del tutto simile alle loro vengono ogni giorno eliminate a causa di un genocidio selettivo, chiamato praticamente aborto terapeutico, a breve tempo dalla nascita di questi figli che tanto li inorgogliscono e che donano loro gioia ogni giorno, alcune mamme hanno voluto offrire la loro esperienza attraverso un servizio rivolto alle coppie che si trovano ad affrontare una diagnosi prenatale relative a questa sindrome. E' così che nasce un sito, credi in me, www.credime.altervista.org. Attraverso questo portale, che cita come sottotitolo storie serie e semiserie sulla sindrome di Down a Cagliari, le mamme si mettono a disposizione delle coppie per sostenerle nella scelta di portare avanti la gravidanza, fornendo consigli sull'allattamento, la crescita e l'accudimento generale di questi piccoli, che per alcune operazioni quotidiane, per altri bimbi di routine, hanno invece necessità di una particolare accuratezza. Sicuramente una bella notizia per cui vi invitiamo a visitare questo sito che è nato da qualche giorno. Anche i parroci scendono in campo contro la discarica. Doveva essere chiusa infatti già da due anni una discarica ubicata nel territorio di Mola, attiva da 30 anni. Ma le promesse di Vendola non sono state mantenute. La reazione dei cittadini, che sono stati presi in giro, non si è fatta attendere. E così anche i parroci di Mola sono scesi in campo con una lettera dal titolo Chiudere la discarica per il bene comune. Nella nota pastorale dirizzata ai fedeli e distribuita all'uscita delle messe domenicali, si invitano gli amministratori pubblici non solo a chiudere la discarica, ma ad avviare una necessaria azione di indagine sul territorio interessato, attraverso analisi e rilievi che non escludano il carotaggio del suolo su cui la discarica incide. Ai fedeli però anche un invito a fare la raccolta differenziata, come scelta ineludibile per il bene comune e la salvaguardia del creato. Bene, con questa notizia si chiude questa edizione del Tg10. Naturalmente l'appuntamento è alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.